Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano, in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la metropoli di Beige, mi sono recato personalmente nel mercato cittadino, dove mi è stato suggerito un prodotto che manterrà al sicuro qualsiasi deck inserito al suo interno. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del crogiolo, in questo episodio il mercante consiglia il Bastion 100 Plus XL della Gaingenic. La prima cosa che troverete una volta aperta la scatola, oltre all'accessorio, sarà una carta token brandizzata da utilizzare durante i match che affronterete, se sarete giocatori di Magic, ed una targhetta adesiva dove poter scrivere le info generali del mazzo che utilizzerete. Vedremo fra poco dove potrà essere applicata. Il prodotto si presenterà piuttosto minimale, riportando unicamente il logo della casa produttrice in rilievo sulla parte bassa frontale, ed il solo nome della casa tedesca, sui lati sia destro che sinistro e nella parte alta dell'accessorio. Quest'ultimo racchiuso all'interno di una forma geometrica regolare. Sarà proprio qui che la targhetta adesiva potrà essere incollata, tenendo traccia costantemente dell'archetipo di deck che avrete deciso di custodire all'interno del Bastion. Deck che potrà trovare, inoltre, un comodo alloggio anche a livello giocato, dato che la base di questo articolo fungerà da perfetto portacarte, consentendo un facile accesso ad ogni elemento custodito nel mazzo, sfruttando allo stesso tempo il coperchio come eventuale pila degli scarti. Progettato in modo accurato per entrare perfettamente all'interno del dungeon 1100+, esso vi permetterà di accedere ai vari arsenali in vostro possesso in modo rapido, pronti per essere giocati quando l'occasione lo richiederà. Al suo interno potranno entrare comodamente fino a 120 carte con bustina singola o più di 100 carte con bustina doppia, rappresentando la scelta ideale per chi giocherà Commander o per chi vorrà portare sempre con sé almeno un paio di deck, che potranno essere divisi tra loro attraverso i divider che saranno sempre forniti dalla casa tedesca, acquistabili separatamente. Un altro pregio di questo accessorio è che i mini-snap ci entreranno agilmente, non creando forzature sulle pareti dell'articolo, che a lungo andare danneggerebbero sia l'articolo stesso che la custodia dove poter inserire i leader di One Piece, ad esempio, o i campioni con equipaggiamento a seguito di Flash & Blood. Una volta quindi introdotto tutto il necessario all'interno del bastion, potrete, attraverso il meccanismo di bloccaggio chiamato Snap Open, tenere al sicuro ogni elemento che deciderete di giocare, dato che sotto sforzo, a massimo carico, entrambe le parti dell'articolo reggeranno senza problemi, garantendo una chiusura solida e stabile. Mentre risulterà piuttosto semplice separarle una volta che vorrete accedere al contenuto. Quello che mi piace di questo accessorio è proprio la chiusura, che sembra quasi il casco di Iron Man, se ci fate caso. Infatti, come consigliato anche dai vari video illustrativi promossi dalla Gengenic stessa, vi basterà unire le parti dorsali del coperchio e della base, ruotare leggermente verso il basso, per avere una cassaforte in miniatura sempre a portata di mano. All'interno del bastion, inoltre, potranno essere inseriti fino a 5 confezioni utili per il formato cubo di Magic e per i più meticolosi carte con tripla bustina, per assicurare una protezione in più al proprio deck o ad altri elementi utili del gioco. Un ennesimo punto a favore è volto verso i giocatori di Commander, Fab, One Piece e tutti coloro che hanno un campione i quali panni vestiranno durante un match, che, attraverso la parte posteriore, completamente svincolata da chiusure e quindi totalmente visibile, potranno osservare liberamente il proprio condottiero direttamente dall'esterno. Insomma, un altro capolavoro partorito dalle menti ingegneristiche della GameGenic, pensato appositamente per gli appassionati di qualsivoglia TCG. Il bastion 100 Plus XL verrà venduto ad un prezzo indicativo di 12 euro. Disponibile in 10 colorazioni differenti, potrà ospitare al suo interno più di 120 carte a bustina singola o più di 100 carte con bustina doppia. Con il suo sistema di chiusura meccanica SnapOpen, manterrà al sicuro ogni elemento in esso custodito, evitando che cadute o urti accidentali vadano a riversare il contenuto a terra. Pensato appositamente per calzare a pennello dentro un dungeon 1100 Plus, che ne potrà contenere fino a 10, questo accessorio tornerà utile a chi lo adopererà per diversi aspetti del gioco o per inserire al suo interno altri accessori. Costruito interamente in materiale ABS, un polimero plastico utilizzato anche per le costruzioni Lego, non conterrà alcuna traccia né di acidi né di PVC. Prima di concludere, volevo ringraziare la Gamegenic per aver messo a disposizione questo prodotto e per avermi dato la possibilità di parlarne in anteprima. Se vorrete ottenerne uno, vi consiglio di partecipare al torneo che si terrà lunedì prossimo alle ore 20 e 30 presso i signori di Loop Games, dove, ad estrazione, un fortunato si porterà a casa questo meraviglioso accessorio. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del posto riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!